Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una puntata di Rise of the Tomb Raider. Allora gente, nell'ultima puntata abbiamo bighellonato un po' tra missioni secondarie, risorse e cose del genere, prima di sostanzialmente stufarci, vedere che non era che aggiungesse poi così tanto per carità. È vero che ci potenziano le armi, ci danno delle cose effettivamente di qualche valore, però non abbastanza dal mio punto di vista. Col passare del tempo mi sono un po' reso conto di questa cosa e in tutta onestà ho preferito andare avanti con la missione principale. Abbiamo fatto giusto qualche passettino, stavamo andando avanti quando abbiamo trovato l'entrata a un'altra tomba della sfida, la terza di questa zona, per la miseria. E quindi, insomma, siamo riusciti ad entrarci abbastanza facilmente ed eccoci qua. Wow! Ok, eh no, devo prima fermare quell'acqua, in qualche maniera. Quello non riuscirò a colpirlo con la Molotov. Va bene, ci tornerò poi. Grazie. Altre bottiglie per le Molotov. Mi sa che queste serviranno, eh. Sì, oggetto, documento, vabbè, li chiamo tutti documenti. È una bomba. È opera della stessa persona. Deve aver raccolto pezzi per molto tempo. Grazie. Ah. Ehm. Vediamo. Ah, prima facciamoci un giretto di qua. Oh, un altro documento. Ecco. Ci sono quasi. Devo avere un vuoto per entrare. Quando l'uranio stava per finire, ho temuto che la nostra operazione fosse arrivata alla fine. Ma quando abbiamo chiuso il tunnel, il destino si è messo in moto. Abbiamo trovato una sala, mezza distrutta da un crollo, ma chiaramente costruita dalle mani di un uomo. Ci sono antichi manufatti di quasi mille anni, intatti da quando la tomba era stata sigillata. Abbiamo raddoppiato i nostri sforzi. Anziché occuparsi dell'estrazione mineraria, i minatori ora cercano i manufatti. I nativi della valle, la cui resistenza è già stata piegata una volta, accettano malvolentieri questo nuovo incarico. Come se non volessero farci trovare le reliquie. Dovremmo punire in modo esemplare alcuni giovani, prima che il loro astio porti a qualcos'altro. Eh già, cosa può mai andare storto quando fai così? Allora, eh sì, devi trovare il modo per entrare, giustamente. Beh, io mi lancierei qui e vediamo cosa accade. Ok, grande. Devo trovare il modo di bloccarla una volta per tutti. Ah. Ehm. Vediamo. Va bene, facciamoci venire in mente qualcosa. Ehm. Allora, quei... Aspetta un attimo, ma qua... Ah, ma qua continua. Ah. Lì c'è qualcosa. Ehm. Forse... Non è una grande idea. O forse è esattamente quello che devo fare. Quasito cosa c'è lì? Ah. Un altro fresco. Ok. Il russo sta migliorando, ma ancora non è al top. Oh, guarda qua. Aspetta un attimo, ma se io... Per cominciare qua c'è sicuro qualcosa. Infatti qualcosa c'è. Quasi non valeva la pena fare tutta sta strada per questo, però... No, forse no. Però ormai l'abbiamo fatto. Buio, buio. No, lì ci va legato qualcosa. Allora, fammi pensare, fammi pensare. Allora, quello si levava una volta per tutte, proprio, vero? Buio, proviamo a vedere cosa succede così. Aspetta, ma cosa diavolo... Aspetta, ma mica l'avevo visto che il carretto... Fammi capire, c'è un altro carretto adesso? Sì, che ce n'è un altro di carretto. Aspetta, quindi... Potrei forse... connettere la corta. È per la miseria, ma è lontanito. Eh no. Eh no, non riesco. Dai, dai, non deve essere difficile la soluzione. Pensiamoci bene. Allora, quello si alza. No, questo non posso collegarlo. Lì mi posso solo aggrappare. Dovrei connettere il carretto, ma... Come diavolo faccio? Perché se io faccio questo... Di nuovo... No? Il carretto si sposta là. Ma il carretto è coperto così. È coperto da quello. Come diavolo dovrei fare? Aspetto, oppure... Oppure ci arrivo da là. Beh, andiamo a vedere. Tanto... Ho il forte sospetto che io non possa tirargli... Non possa colpirlo con la corda da quella posizione, eh. Però... Tanto vale. Invece mi sa di sì. Oh, che figata. Ok. A posto. Non pensavo, ragazzi. Se no l'avrei trovato già qualche minuto fa. La soluzione. Ha funzionato. Ora mi serve di un po' Perfetto. Perfetto. Grande. Eccoci qui. Sembra che i laboratori non ce l'abbiano più fatta. Eh... Pare anche a me. Ci siamo. Anche monete. Molto bene. Lì c'è qualcosa di inter... Devono averlo trascinato fuori di qui. Vabbè, intanto prendiamo questo. E vediamo cosa ci dà. È un codice antico. Un dibattito filosofico sulla virtù della consapevolezza. Occhi a Guzzi. L'istinto di sapravivenza migliorato evidenza... Evidenza automaticamente le trappole nelle vicinanze. Figo. Bene. Grazie. Quanti danni. Tra gli scavi improvvisati e il gruor. Ma deve essere collegato al profeta. Questo deve essere il tunnel da cui sono passati. Dovrebbe portare fuori. Ehm... Ok, vai. Ah, interessante. Scommetto che so... Dov'è questo... Esatto. Esattamente. Esattamente. Proprio quello che immaginavo. Va bene. A questo punto possiamo uscire allegramente dalla tomba. E continuare la nostra missione. Le tombe vorrò sempre farle, ragazzi. Perché queste sono... Cioè, sono effettivamente fighe da fare. E ti danno... Abilità utili. Quindi queste davvero sono... Qualcosa di... Importante... E valido. Tante risorse... E tante altre cose utili. Quindi... Ops. Ok, torna su. Perfetto. Oh, e ci siamo. Base sovietica. Rieccoci qua. Adesso. Era qui che eravamo andati. Guarda un po' qui. Non avevo notato questa cosa. Qui c'è una mappa. Figo. Segreti individuati. Nuovi documenti. Nuovi affreschi. Bla bla bla. Tunnel della miniera. Vabbè, qui c'è tutti i kit di sopravvivenza. Ce li possiamo pure fregare. Mmm. Wow, no! Pensavo... Non pensavo sarei scivolato. Dannazione. Vabbè, mo la... La mappa dovrei aver già... Ve la sblocca... Ta. Credo di sì. Va bene, allora. Continuiamo per la nostra via. Ok. Che è più o meno da quella parte. Qui. È già al massimo. Questo è al massimo. Questo no. Qui ci sono scritte sovietiche. Altra propaganda sovietica. Dai, ci siamo quasi a russo... Livello 3. Oh, attenzione. Dove si va qui? Eh... Cos'è? Che diavolo? Non... Boh... Aspetta. Dov'è una bottiglia Molotov? Attento per cominciare, questo no? Questo lo devo agganciare da qualche parte, vero? Già. Vabbè, dai, senti. Proseguiamo. Qui c'è qualcosa. La medaglia di eroe dell'Unione Sovietica. È l'onorificenza più alta assegnata per atti di eroismo. Forse apparteneva a uno degli ufficiali del Gulag. Alla faccia dell'eroismo. Di nuovo questa. Niente. Però... Qui c'è qualcosa di... Di utile, forse. Dove sono finito? Dove sono finito? No, non mi dire... Aspetta. Oh, porca miseria. Ecco dove sono finito. Vabbè, se non altro... Vabbè, ho sbloccato qualcosa. Diciamo così. Dove è rifare tutto il giro. Dove è rifare tutto il giro. Dovrei riuscire in qualche modo a... Aspetta, che diavolo è sto posto? Porca miseria. Qua ci posso andare. Ma poi dove finisco? E dove ritorno, soprattutto? Lì. Vabbè, andiamoci dai. Tanto... Vale la pena esplorare. Bisogna lanciarsi da qui? Ma che diavolo... Vabbè. Ok, una volta arrivato qui ho trovato delle piume. Delle cose che manco mi servono. Tra cui una moneta. E quindi? Che ho risolto? Ah, forse... Ho capito. Grazie. Ho trovato questo. E... Ah, ok. Tutto torna. Tutto torna. Tutto torna. Perfetto. Ecco. L'unico fatto è che a momento devo rifare tutta la strada. Per prendere ste due cose in croce. Per la miseria. No, basta. No, vediamo di andare più o meno dritti. C'è ancora qualcosa che proprio mi dà fastidio, questo... Questo buco qua. Proprio non capisco. Però... Mira LT e uscilla con la corda? Wow. Ah. Interessante. Bene. Ah. Non è per niente Non è per niente rischioso Oh Ma questa è una delle cose Meno sensate dell'universo Vabbè Ok Andiamo su Non saprei Non vedo Ho appena perso il contatto con la squadra di Per l'amor di dio Lara Mi sei incattivita Qui c'è qualcosa Allora Lì si può andare Però una volta andati in là Dove si va? Credo da nessuna parte Ok qui Ok qui Qui E va Qui Ok ma qui dove sarebbe? Oh Attenzione Oh yes Un nuovo arco Bella Bellissima storia Eh Aspetta un attimo Che diavolo Dove è che sono e perché sono qui soprattutto? Forse per questo motivo Vabbè Vabbè capirai Ok L'orazione mi sta un po' prendendo la mano forse ragazzi Eh Ecco dove sono capitato Ah Ho fatto Questa cosa al contrario Senza nessuna ragione Merda Vabbè senti Ancora uno Ma no Che cazzo Vabbè Vaffanculo Va bene Sono tutti morti Molto bene Questo mo? Ah Vabbè No Io là non ci torno Mi dispiace Trovo prendere quei due cenci Mi interessa molto poco Questo magari è Se fosse stato qualcosa di pensato Mi sarebbe interessato di più Allora Andiamo a saccheggiare Con sto oro Grazie Grazie Questi 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 l'ho già presi Qui Perché quello è già morto Ah beh Quello era già morto Da prima Ok Secondo me Non ci troverò un tubo di niente Però Una freccia avvelenate Che sono già al massimo Vero Vero Eh Punto Ma come Oddio Aspetta Oh documento L'armata rossa Ha scoperto il tempio Della benedizione del profeta Hanno bloccato le operazioni normali E hanno iniziato a saccheggiare Le ricchezze dei nostri antenati Siamo pronti Insieme ai prigionieri Ci siamo procurati armi e dinamite Quando i guardiani saranno distratti Scateneremo il caos E insorgeremo L'armata rossa è stata spietata con noi Ma le ripagheremo con la stessa moneta Non ci fermeremo finché non saranno tutti morti Solo allora Il nostro segreto sarà al sicuro Eh Un filino Ok Sono arrivato a russo di livello 3 Allora Il fatto che l'obiettivo è da tutt'altra parte Aspetta 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 Che stupido È vero Questo Documento ancora Sono nella merda Nella merda fino al collo Ho rovistato un po' in giro per salvarmi qualche file E nella posta ho trovato una conversazione riservata Parlavano Di me E ho il sospetto Che volessero io la trovassi Il capo della sicurezza si è accorto che trafugo informazioni Forse l'ha sempre saputo Per ora si limitano a tenermi d'occhio Vogliono scoprire a che gioco sto giocando Vorrei fosse un gioco Sto rischiando la pelle Non avrei dovuto impicciarmi Sono stato stupido Non so neanche più se questo canale è ancora sicuro Forse sono già venuti a prenderti Sono in piena paranoia Questa trinità è un'organizzazione enorme Sono ovunque Più cose scopro Più mi rendo conto di aver fatto una cazzata colossale Avevi ragione Lo ammetto Ai ai Allora Vabbè Legno Eppure questa è al massimo adesso Cavolo Componente per mitra Grazie È tutto al massimo praticamente Ci conservavano i ritrovamenti più preziosi Vediamo di aprire Chi ha la fiamma ossidese? Eccola Ok ascoltatemi bene Non toccate niente Catalogate tutti i manufatti che trovate Tutta questa roba viene dalla miniera Già Secondo i rapporti Appena Gli do fuoco Tutti quanti La rivolta deve essere scoppiata subito dopo Per il cazzo Ma vaffanculo Ma dai ma sul serio? Sparpagliamoci Occhi aperti Trovata Trovata Siamo un uomo a terra L'ho presa Fuoco Fuoco di fuoco Bomba in arrivo Eccola Eccola la bomba Mi piace sta pistola Mica male Però questo mi sa che è meglio Ho fatto veramente una cazzata Ma Cioè Una cazzata Porca miseria Non doveva esplodermi in faccia Quell'affare Vabbè Ridiamoci su Grazie Mi sa che ne incontreremo ancora Di questi tipi Sì vero Ah Puglio di gas Puoi usare il fuoco agli esplosivi Per far esplodere il gas Grazie 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 Ok Grande Ok Ok A posto C'è questo 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 Oh Due molle Perfetto Un'altra molla Grande Wow Posto Vabbè sto Leggerissimamente Migliorando A sparare col controller Leggerissimamente Ok Massimo di questo E di quell'altro pure Massimo di questo Wow Tanto per Tanto per cambiare Esplode tutto Sì signore Ok Dividetevi L'abbiamo circondata Aspetta un attimo No Aspetta un attimo È grande Vieni giù anche tu Ehi Com'è sta storia Ok Devo assolutamente Guarire Ok Ok È andato Ustana Eva Ok Grande Fabbrica Fabbrica freccia avvelenate Grazie Freccia avvelenate Erano La cosa migliore Io sono stato imbecille Non le ho usate bene Grazie Due molle Questo È bene Dovrei davvero Comprare all'emporio Quello a fare Aspetta No eh Vabbè Cosa mi dice Che devo andare E' lì Wow Ah eccolo Ormai è un'abitudine salvarci a vicenda Grazie Sono felice Tu stia bene E' quella All'entrata Sì Ce ne saranno altri Dentro Non sei costretta A farlo Non ti liberi Facilmente Di me Cerco ancora Delle risposte Allora Non perdiamo tempo Vabbè L'abbiamo trovato Ci ha salvato la vita E siamo giunti A destinazione Eh lo so ragazzo Però mi sa tanto Che la cosa migliore Ragazzi è che ci salutiamo adesso Perché ho come l'impressione Che qua ce ne sarà Da tritare Per un po' Quindi Mi sa tanto Che ci salutiamo ora Questo passaggio Ci porterà Dall'altra parte Della montagna La mia gente L'ha usato Fino a quando Sono arrivati i sovietici E hanno iniziato a scavare Cosa hanno trovato Da queste parti Qualcosa di abbastanza Interessante Da farli proseguire Hanno usato macchinari Ed esplosivi Per andare più in profondità Molti vecchi passaggi Sono crollati Ma ora Non c'è pericolo Più o meno Ora non c'è pericolo Coraggio Dobbiamo muoverci Va bene Allora ragazzi Dicevo Meglio che ci fermiamo qua Perché qua Mi sa che va per le lunghe Questa è una di quelle parti Un po' Scriptate Scarsamente interazione Credo Che però sono abbastanza Lunghette Per quanto Belle e suggestive Quindi direi che le facciamo La prossima puntata In maniera più giusta D'accordo ragazzi Quindi Per oggi è tutto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E se vi sta piacendo la serie E qui sotto in descrizione Trovate tutti i link Ai miei social E i link Per supportare il canale D'accordo ragazzi A presto